Dal momento che hai cliccato questo video sono sicuro che il sospetto che si trattasse di un titolo clickbait ti è venuto immediatamente. A questo punto io ti chiedo solamente 30 secondi del tuo tempo perché voglio provare a dimostrarti che in realtà non è clickbait, si tratta della verità. Ebbene sì, oggi parliamo di fregature, ma parliamo non tanto di un utente, quale posso essere io, che viene fregato, quanto di un utente che si fa fregare, è compiacente, io sono contento di farmi fregare la maggior parte delle volte, e questo perché? Perché mi hanno fregato, ovvero mi hanno inculcato un bisogno che fino a poco prima non avevo. Parliamo ovviamente di mercato fotografico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi vi parlerò di come le case produttrici di apparecchiature, foto e video, riescono in qualche maniera a fregarci, a farci pensare che abbiamo bisogno di comprare sempre qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo già. Se temi come la fotografia, il videomaking e il design vi interessano particolarmente, io vi invito a iscrivervi adesso a questo canale, così rimanete aggiornati su tutti i prossimi video che ho intenzione di pubblicare, e fidatevi, ne vedremo delle belle. Lasciate anche un like a questo video, perché sono sicuro che entro la fine avrete imparato a farvi abbindolare molto di meno. Quanto a me, io non imparerò mai. Andiamo un pochettino ad affrontare quella che è l'ultima fregatura che mi sono autorifilato. Oggi sono qui in compagnia di Canon EOS R e non so se riuscite a vedere da lì, ma qui abbiamo un'ottica nuova, che è il 14-35mm, una lente che fino a poco tempo fa io non avevo, una lente di cui avevo sì sentito parlare, ma una lente che non avevo preso in considerazione un po' per pigrizia e un po' perché io, come sapete da video precedenti, ho sempre considerato le fotocamere mirrorless come delle videocamere. Io ho acquistato questa camera per fare video, così come ho acquistato Canon EOS R7 per fare video, così come ho acquistato la M50 che sto usando in questo momento, le ho acquistate tutte per fare video. Non ci ho quasi mai fatto foto. Ora però, che cosa succede? Nel mercato fotografico siamo abituati a vedere modelli con più megapixel, modelli con la raffica con più scatti, modelli con la sensibilità ISO sempre sempre più alta. Quindi sostanzialmente le case produttrici ci stanno facendo partecipare a un contest tra galli con noi stessi, perché siamo noi stessi di volta in volta che ci diciamo «è uscito un modello nuovo, c'ha 3 megapixel in più di quello che avevo prima, 3 schifosissimi, non uno di più». Lo voglio. È una stupidata, lo so, ne siamo consapevoli tutti, eppure ci facciamo fregare. Ogni tanto veniamo sinceramente abbindolati, ma la maggior parte delle volte, io ve lo assicuro, siamo noi stessi a volerci far fregare. Ed è proprio il caso mio e vi voglio raccontare di questa mia esperienza, primo perché voglio farvi vedere questa lente di cui comunque sono abbastanza soddisfatto, smetti la Ferrari, e secondo perché voglio raccontarvela in maniera tale che a meno persone succeda la stessa cosa. Dunque, che cosa succede? Io, come vi dicevo poc'anzi, ho sempre considerato le mirrorless delle buone videocamere. Non mi interessavano particolarmente per l'aspetto fotografico, perché comunque ho delle reflex che mi danno tutto quello che mi serve. Io sono contentissimo della mia 6D, della mia 5D, anzi delle mie 5D Neo 2, sono contentissimo, quindi non ho bisogno di nient'altro per quanto riguarda i corpi macchina, sono contentissimo, ma... ma... ecco che mi fregano. Perché improvvisamente mi mettono sul tavolo un 14-35 F4. E io dentro di me penso, porca miseria, 14-35. Io attualmente vado in giro con un 16-35. Bellissimo l'F4, lo adoro, serie 2, mi piace tantissimo. Una delle lenti che ho amato di più nel corso di tutta la mia vita. E forse è una delle lenti che ho usato di più in assoluto, perché si presta a molteplici contesti, nonostante quell'F4 un po' antipatico. Ma vi assicuro che non è un problema. Ed ecco che... che cosa succede? La casa produttrice mi mette lì 2 mm in più. E quindi io so benissimo che con una nuova lente, questa, potrei avere un'ottica un pochettino più wide. A livello conscio io sto pensando, non mi serve, non mi cambia la vita, non mi cambia il flusso di lavoro, i miei clienti non me la chiedono, non me la chiederanno mai, costa una fracca di soldi. Sembra proprio che sia un acquisto sbagliato, un acquisto che io non dovrei fare. Din! E questa che cos'è allora? Che cosa succede dentro nella testa di noi poveri consumatori, ma anche professionisti, perché alla fine la testa funziona nello stesso modo? Io sto pensando, nel momento in cui ce l'ho, poi la uso. Nel momento in cui ce l'ho, propongo delle cose che adesso non potrei fare. Nel momento in cui ce l'ho, semplicemente posso fare qualcosa meglio di adesso e quindi questo mi ripaga dell'investimento. Ora, un conto è fare tutti questi ragionamenti e un conto è essere completamente vittime di quello che è il mercato, in questo caso fotografico. Nel mio caso io credo di esserne completamente vittima, perché è evidente che io non avevo bisogno di questa lente, è evidente che è semplicemente un vezzo. È anche evidente che dal momento che ce l'ho, poi la uso e quindi quel 14 mm mi sta già regalando tantissime soddisfazioni e sono veramente molto molto contento di questa lente, però diventa controproducente se ve la racconto in questo modo. Mettiamola così. Dopo aver ponderato la cosa molto molto a lungo, circa un paio d'ore, mi sono deciso a fare questo passo, ovvero acquistare una lente con monta RF. Sono molto costose queste lenti, veramente tanto. Ho preferito l'F4, come succede quasi sempre. Non ho voluto il 2.8, perché a me non capita quasi mai di aver bisogno del 2.8. Io scatto prevalentemente interni con testi statici, magari fotografia industriale, però con testi dove comunque me la cavo. Inoltre la Canon EOS R ha una buona tenuta sugli alti ISO, quindi sono abbastanza tranquillo. Non la voglio tirare ai limiti, non le voglio tirare il collo. Ovviamente non è né una R5, né tantomeno una Sony Alpha 7 S3, quindi non la posso tirare così tanto, però comunque è una fotocamera che se la cavicchia anche con un F4, quindi non sono preoccupatissimo da quel punto di vista. Non ho voluto affrontare la spesa del 15-35mm F2.8, perché costa veramente veramente troppo, e inoltre sarebbe un 15-35mm. Io invece voglio il 14-35mm. Il 14-35mm è F4. Ora, io ho avuto modo di provare questa lente per ora solo per diletto, non l'ho ancora utilizzata professionalmente per lavoro. Ho avuto modo di utilizzarla e vi devo dire che la qualità di Canon EOS R unita alla qualità di questa lente mi ha lasciato veramente molto soddisfatto. Però devo dire, dopo averla acquistata, quindi ormai è troppo tardi, ormai sono stato vittima di questa cosa, mi sono fatto fregare, ma mi sono fatto fregare consapevolmente. A questo punto però, scoprire che cosa significa lavorare con il 14 invece che essere bloccati al 16, ti apre sicuramente delle porte, delle prospettive, e ci si rende conto che si possono fare delle cose che prima non erano possibili e a questo punto mi rendo anche conto che essendo obbligato, perché questa è una lente RF e quindi funziona solamente su un corpo mirrorless, essendo obbligato a utilizzare un corpo mirrorless per la fotografia, si imparano anche delle cose. È questa la vera fregatura, è qui che io mi sono fatto fregare, perché io mi ero proprio detto, io prendo delle mirrorless per fare video e le uso solo per fare video, non mi frega niente di fare foto con le mirrorless ed ecco che il produttore è riuscito a entrarmi in testa e mi ha fregato, come? Con un'esca. Mi ha lasciato un'esca lì in bella vista in maniera tale che io la prendessi. Quest'esca sono delle lenti, un intero sistema di lenti che sono più progredite di quelle che io uso attualmente e quindi io mi tenevo tanto volentieri le mie vecchie fotocamere reflex per fare fotografia, ma ecco che con quest'esca, con queste lenti nuove, sono riusciti a prendermi al lamo. E quindi adesso che cosa succede? Che adesso sto cominciando a fare fotografia con la Canon EOS R e sto utilizzando questa lente che mi sta piacendo molto, non è esente da difetti, è una lente che ha parecchi difetti, ve lo ripeto, e ne parleremo in un video successivo, però è una lente che unita a questo sensore full frame mi dà una qualità di immagine veramente, veramente rimarchevole, di cui sono stracontento. Devo vedere che utilizzo farne, perché la utilizzerò sicuramente per fotografia di interni, essendo una lente ultra wide si presta a moltissimi contesti e potendo arrivare però fino a 35 è anche molto, molto versatile. Non solo, questa è una lente che io sono curioso di provare anche in abbinamento sulla Canon EOS R7, perché essendo un 14-35 diventa un eccezionale tuttofare su un corpo APS-C, quindi è una lente anche dalla molteplice funzione. Unica pecca che vi segnalo già adesso, questa lente ha una vignettatura incredibilmente pronunciata, una cosa che veramente all'inizio pensavo di aver messo male il paraluce sull'obiettivo, perché ha una vignettatura veramente molto, molto tosta. Sembra un errore quando lo si guarda per la prima volta, invece effettivamente ne parlano tutti e è proprio fatta così. Quindi questo secondo me è l'errore più grave che ha fatto Canon su questa lente. Un errore che su una lente che costa così tanto francamente non ti aspetti. Ce lo facciamo andare bene lo stesso, l'alternativa era spendere il doppio per prendere l'F2 e non sono neanche sicuro dei difetti dell'F2 perché non l'ho mai provato, quindi non lo so. Una cosa ve la posso dire, questa lente è molto leggera mentre l'F2 è pesantissimo, quindi rimango contento della mia scelta e va bene così, con la vignettatura ci posso venire a patti. Con una lente che costa il doppio faccio fatica. Inoltre una lente che costa il doppio ma ha soltanto 15 mm invece dei miei 16 non mi dava così tanto in più. Con 14 mm io sono molto contento perché adesso posso allargare i miei orizzonti fotograficamente parlando. E niente, questa è la triste storia di come mi sono fatto fregare. Lascio la palla a voi a questo punto, lasciatemi scritto in un commento se secondo voi questo video aveva un titolo clickbait oppure no. Seguiranno presto degli aggiornamenti perché ho intenzione di farvi vedere che cosa sto scattando per gioco con questa lente perché prima di portarla su uno scenario professionale ci gioco sempre un po'. La porto fuori, le faccio fare un giretto, chiacchieriamo un po' e al termine di questo giro io ho capito che cosa è in grado di fare lei e lei ha capito che cosa sono in grado di fare io e quindi ci mettiamo d'accordo e allora siamo pronti a lavorare insieme. Vi farò vedere che cosa ho realizzato durante una delle mie passeggiate in maniera tale da acclimatarmi con questa nuova lente. Ci saranno delle belle cose le ho già viste in anteprima e sono molto molto carine nonostante fossero cose estemporanee scattate solo per capire come funziona questa lente. Lasciatemi scritto in un commento anche questo se vi interessa una recensione di questa lente ma tanto la farò in ogni caso. Signori, con questo è tutto io vi do appuntamento al prossimo video.